Visto che lei è una neofita nel mondo dei motori, del motocilismo almeno. Sì, assolutamente sì. Il primo anno, prima esperienza, bellissima. Diciamo subito, ricordiamolo, che tu hai seguito un po' tutta quella che è la comunicazione, i public relations di Vittoria Nuzzo in questa stagione. E ti sei divertita? Soprattutto sì, mi sono divertita molto. Non conoscevo questo sport, non conoscevo il mondo delle motociclette e devo dire che ho avuto il modo migliore per conoscerle perché... Sì, subito sono stata catapultata in questo mondo che, a mio avviso, è un vero e proprio spettacolo. Spettacolo sia a livello sportivo, ma non solo. Prima, dopo la gara, durante le prove, succede un po' di tutto. È un'esperienza che veramente invito tutti gli appassionati di motociclismo a fare, almeno una volta, a guardare e seguire una gara dal vivo, che è tutta un'altra cosa, a mio avviso. Senti, spesso viene, insomma, il nostro sport viene aditato un po' maschilista, un po' per uomini, le donne sono lì, insomma, fanno, sai, le ombrelline al massimo. Ma che dici? Io ho visto tante di quelle donne in motocicletta, le ho viste, ma guarda veramente... Dalle nostre parti, purtroppo, è così, al sud è così, insomma, ci sta ancora questa cosa da vincere, così come dovremmo vincere tante altre cose. Sì, ma poi noi con Stuntbikers faremo tanti speciali e faremo vedere che non è così. È vero? È vero? Se li fai tu, sarà benissimo. Sono la tua inviata speciale, ecco. No, però a parte scritto, che idea ti sei fatta? Adesso, no, da un punto di vista tecnico e magari ci vorrà del tempo per assimilare anche nozioni tecniche. A punto di vista sportivo e della, insomma, della spettacolarizzazione di questo ambiente? Allora, no, a mio avviso... Anche nel mondo della superbike, ho capito, hai visto anche... Sì, perché poi, alla fine, sì, l'ambiente è lo stesso, superbike, superstock è identico. Supersport. Supersport è identico, eccolo. Però, no, è molto bello. Prima delle gare ci sono, vabbè, le hospitality, che praticamente dove i piloti vanno a mangiare, vanno a rinfrescarsi, insomma, a trascorrere delle ore piacevoli, dove chi ha la possibilità di vivere anche quell'ambiente può conoscerli anche al di là, diciamo, della prestazione. L'aspetto tecnico, chiaro, chiaro. E ci sono poi dei momenti, diciamo, di spettacolo, dove appunto i vari sponsor organizzano, non so, happy hour o altre situazioni del genere. Insomma, è una grande festa. Ci sono poi tanti uomini, diciamo, persone dello spettacolo, quindi hai la possibilità di incontrare anche magari un Teo Teocoli oppure una Maddalena Corvaia, piuttosto che, vabbè, la moglie poi di Max Biaggi. Cioè, voglio dire, è sicuramente un ambiente molto, molto elegante, molto, molto grintoso e sportivo e pulito, devo dire. Ecco, ecco, su tutte cose che in realtà non erano così una volta, perché questo era uno sport, compiato la superbike, ma anche il moto mondiale, che in realtà era molto, molto grizzo, lo sai? Cioè, i piloti arrivavano a volte dopo lunghi viaggi in tuta, l'olio sudato, sì. È diventato col tempo, un po' anche grazie agli effetti della televisione, no? Insomma, tu lo sai benissimo. Io credo televisione sponsor. Eh, gli sponsor, la televisione è diventato un mezzo per giustificare poi ovviamente agli sponsor quei costi notevoli, insomma. No, è uno sport molto elegante, pulito, bello, fresco. Devo dire che mi sono divertita, anzi, grazie Vittorio Giannuzzo, grazie Ciro D'Oricone, sono assunta anche per l'anno prossimo. Sicuro. Vi trovo in diretta, mi raccomando. Io so che tu hai chiesto il doppio di quest'anno. Dobbiamogli la promessa, Lello. Io so che tu hai chiesto il doppio di quest'anno a Ciro Tancolo. Come? Eh, come ragione. No, io in verità ho detto anche gratis, purché ci sia. Ah, quindi allora bisogna lasciare. Avete investito i soldi quest'anno perché poi alla fine ci ritorna utile l'anno prossimo. No, anzi, annunciamo che sono aperte le selezioni per sostituire Enzo e per chiunque volesse può chiamare a loro. Chissà chi farà queste selezioni, chissà, non si sa. Ma guarda Enzo al lavoro ce n'ha tantissimo, credo. Ah sì, sì. La vediamo sempre. Quali sono gli ultimi impegni, insomma, tuoi proprio direttamente in televisione? Va bene, per quanto riguarda le emittenti Telecolore, Sky 849 e Irpina TV. Su Irpina TV faccio un programma di contenitori commerciali di costume. Per quanto riguarda Telecolore è un format sugli sposi, quindi invito a nozze, che partirà però subito dopo Natale. Ah, perfetto. Si è fatta pubblicità, praticamente. Eh, ha fatto un bel, no, non c'è un problema. Io volevo però sapere una cosa che magari tutti quelli che hanno seguito la puntata all'inizio, anche insomma premono per sapere l'anno prossimo cosa succede con Vittorio Annunzio, possiamo dire qualcosa? Allora, sicuramente ci saremo. Questo è... Infatti ho detto che cosa faremo? È una bella premessa. Un manico come il tuo ci deve essere. No, assolutamente stiamo lavorando. Questo è un periodo dove siccome proprio in base alle scelte passate, dove non sono state molto fortunate, non vogliamo commettere insieme a Ciro proprio negli anni scorsi, abbiamo fatto una sorta di meeting, non vogliamo commettere gli errori fatti negli anni scorsi. Quindi stiamo valutando veramente al meglio quelle che sono tutte le opzioni che sono percorribili. Quindi io... Ce ne sono diverse. Sicuramente accetteremo quella più giusta e quella che ci darà più fiducia, sia tecnica che, visto l'esperienza dell'anno scorso, che alla fine c'è economica per portare a termine il campionato. Quindi io credo che... Però sei un po' vago. No, vabbè, sicuramente... Stiamo valutando, Lello, stiamo valutando. Questo è bellissimo. Abbiamo bisogno dei nostri tempi. Sicuramente il mio obiettivo è restare in Supersport, perché in questo momento credo che sia la migliore vetrina per me per potermi esprimere al meglio. Quindi cercherò sicuramente di restare in Supersport, staremo in Supersport. Non so ancora con quale moto. Ho provato la Kawasaki, c'è un contatto ben avviato con loro, ma non è detto che io possa correre con altre moto. Sto aspettando anche un po' quelle che sono le... Anche un aiuto da parte dell'organizzazione che mi indirizza verso delle squadre migliori. Bene, questa è una cosa importante. Allora, è rimasto vago. Vorrà dire che... Insomma, Ciro, sarà una scelta importante. La faremo, spero, a breve, però... Ma sì, speriamo che la prossima puntata, Enza Ruggiero, possi venire con una maglietta di colore verde. Ah, ecco, quindi già abbiamo dato una bella botta al cerchio. Almeno sappiamo il colore. Anche perché noi, Irpini, comunque per il verde abbiamo un debole particolare. È chiaro, e lo immagino. Io volevo solo approfittare per ringraziare te, Lello, Starbiker, comunque per averci seguito, per averci dedicato sempre spazi a Vittorio, comunque al lavoro che abbiamo fatto. Quindi te ne sono grato perché per la nostra attività è importante che si parli di quello che noi facciamo, che i media ci seguono. Quindi ti ringrazio veramente di cuore. Ma guarda, prima che è un lavoro, per noi è una passione. Quindi soprattutto se si tratta di ragazzi campani, poi con Vittorio ci conosciamo da anni. Assolutamente non è una cosa di peso, anzi lo facciamo in maniera proprio passionale, come detto. Allora, io vi devo salutare. Come abbiamo detto, facciamo così che ci riferiamo, eh. Così come stiamo. Prima di Natale. Prima di Natale. Facciamo, che dici, gli auguri ai tifosi. Assolutamente sì. Io cercherò di esserci con una bella notizia, così do anche un regalino ai miei tifosi e a tutte le persone che mi siano. Io vengo vestito da Babbo Natale. Ovviamente ti voleva col verde di Babbo Natale, insomma. È rossa. È rossa. Beh, però... Beh, la bella Ducati in superbike non sarebbe male. Ah, mamma, calma. Questo è quello che ci aspettiamo tutti. Va bene, allora, arrivederci a Vittorio Annunzio, alla prossima. Ciao ragazzi a tutti. Ciao anche a Ciro Troncone. Ciao di nuovo, grazie. E ovviamente, buona serata anche a Enza. Adesso dovete ne mangiare. Ti do un mato. Ah, adesso. Aia. Vabbè, vado a casa su un mazzato. Eh, io ne credo. Buonasera anche a Enza Reggero. Buonasera. Ciao anche da parte mia, ci vediamo settimana prossima con Starbuckers numero 327. Malepunkt mål. Buonasera anche a Enza Reggero.